Oggi siamo qui con il dottor Roberto Dimitri. Roberto Dimitri è il direttore del reparto dell'unità operativa complessa di gastroenterologia dell'ospedale civico di Palermo. È un reparto di eccellenza, un reparto molto interessante. Dottore, cosa fate in concreto? Come siete organizzati in questo reparto? Il reparto che dirigo è una unità operativa complessa di gastroenterologia con endoscopia digestiva che si occupa di tutta la patologia gastroenterologica. È un reparto che si è rinnovato sia da un punto di vista di risorse umane, in quanto è un reparto molto giovane, con un'età media di 35 anni, dico eccetto me che ovviamente ne ho qualcuno in più. È un reparto che attende un rinnovo tecnologico importante che a breve avverrà con l'acquisizione di nuove apparecchiature endoscopiche, che è molto dedicato all'endoscopia digestiva sia diagnostica che operativa e che rappresenta un punto di riferimento per la gestione di patologie gastroenterologiche di rilievo e complesse, tra cui quelle del distretto biliopancreatico, in particolare alcune patologie rare, quali per esempio la calasia. Lei ha nominato una malattia con un nome per me quasi impronunciabile. Di cosa si tratta? Quali sono i problemi che provoca? E poi voi fate parte anche della rete, della regione siciliana. Come lavorate? Noi siamo entrati a fare parte recentemente con l'ultimo decreto della rete regionale, in quanto ovviamente abbiamo attratto pazienti e patologie per quello che facciamo e in particolare di riferimento siamo divenuti a livello regionale e anche extra regionale per la calasia, considero che siamo l'unico centro del sud Italia sotto Roma che si dedica alla gestione endoscopica sia diagnostica che terapeutica soprattutto di questa patologia. Questa patologia è una patologia molto invalidante, una patologia che ha un'incidenza di un caso su 2.000 abitanti all'incirca, quindi rientra perfettamente in quello che è il criterio di definizione di malattia rara e che determina una difficoltà nell'alimentazione per cui il paziente non riesce a ingerire né cibi solidi che liquidi per un difetto di motilità dell'esofago. Mi metto nei panni di una famiglia, dei cittadini che a un certo punto cominciano a sospettare qualcosa ma hanno bisogno di aiuto, hanno girato magari parecchi medici. Cosa devono fare per rivolgersi a voi? Questi pazienti spesso arrivano tardi dallo specialista, dal gastroenterologo o nel nostro centro perché spesso sono sintomi che vengono anche sottovalutati e misconosciuti per cui c'è un andirivieni tra medico di inizia generale, specialisti, specialisti vari perché magari si pensa a un problema di reflusso gastroesofageico che è quello più comune ovviamente, mentre di fatto poi il paziente perde peso, continua a non mangiare, a avere episodi di vomito, quindi non si alimenta adeguatamente e di conseguenza arriva da noi spesso anche defedato. In ogni caso l'accesso da noi è abbastanza semplice e abbastanza rapido. Noi facciamo un'attività ambulatoriale quotidiana dove facciamo dalle 15 alle 20 visite ambulatoriali e l'accesso solitamente attraverso il CUP con richiesta del medico di medicina generale che attribuisce classi di priorità variabili in funzione di quello che ritiene opportuno. In ogni caso la nostra unità operativa è sempre aperta a contatti sia con i medici di medicina generale che con i pazienti attraverso anche contatti mail che mettiamo a disposizione sul sito, c'è una cartella di servizi dove noi sostanzialmente abbiamo pubblicizzato anche la nostra attività.